La crisi, il rischio dell'imposta di soggiorno, la defiscalizzazione che non arriva. Così l'assessore regionale al turismo dell'Emilia Romagna, Maurizio Melucci, ha delineato il contesto in cui arrivano le sue linee guida per la promozione rivolta già alla stagione 2012, con un occhio particolare all'aumento di nuovi competitor agguerriti e qualificati che si fanno avanti con proposte vantaggiose. Per il 2012, secondo Melucci, la promozione dovrà riguardare territori di area vasta, non più singoli prodotti, per creare opportunità anche in parte della regione, oggi toccate solo da un turismo di nicchia. Accanto alla costa, dove si concentra l'80% delle presenze, ci sono possibilità nelle città d'arte per il turismo termale, enogastronomico, la montagna, il brand Italia ed è da sviluppare anche il delta del Po e i suoi 700 chilometri di piste ciclabili lungo le sponde dell'Emilia Romagna. In questo paese, ha sottolineato Melucci, il turismo non è mai stato letto come un comparto economico strategico alla pari, ad esempio, dell'industria automobilistica. Invece serve un salto culturale, il turismo è la nostra materia prima. Tra gli obiettivi principali, aumentare la quota degli stranieri, ora solo al 20% delle presenze, ma, sempre secondo Melucci, bisogna concentrare gli investimenti di tutti, e cioè apiti servizi, unioni di prodotto costa, enti territoriali, aggregazioni, su pochi mercati come Germania, Russia, ma anche Polonia, Austria, Svizzera, Repubblica Cecca e Francia. Ha annunciato anche che 7 milioni di provenienza statale saranno investiti per innovazioni nel turismo congressuale.